Come fai a fargli controllare Whatsapp più di 100 volte al giorno? Oggi mi vedete un po' spavaranzato, quindi fargli controllare Whatsapp significa far sì che la persona sia completamente ossessionata dall'idea di saperti al telefono o di verificare al telefono, questo aumenta l'investimento, aumenta l'innamoramento della persona sicuramente poi ti fa diventare ancora più brava con l'amore e ti permette di riuscire poi a far sì che l'uomo che tanto areli, che tanto desideri riesca poi a esprimere i propri sentimenti amorosi perché non ce la fa più sicuramente queste cose che ti sto per dire le devi calibrare, non utilizzarle al tuo discapito o meglio, utilizzarle nel modo giusto, non utilizzarle in modo tale che poi diventino delle tecniche che ti si ritorcono contro, quindi che ti fanno male perché alcune persone abusano di quello che dico, quindi state attenti, questo lo potete utilizzare per speziare un po' la relazione e il rapporto e creare un po' di tempesta allora, la prima cosa che devi fare per far sì che l'altra persona incominci a controllare whatsapp cento volte al giorno pur di capire o vedere cosa stai facendo è ovviamente andare a togliere subito il visualizzato senza risposta quindi vai subito, come si fa a togliere il visualizzato senza risposta, sto scherzando devi togliere le spunte blu, quindi devi andare a rimuovere completamente queste maledette spunte blu perché non le togli, perché c'hai, non so, chettare mentali, però togli queste spunte blu perché c'hai 30 anni e passa se guardi il studio sicuramente quindi è il momento che ti inizia da una svegliata e ti inizia a staccare da questo ipercontrollo, io sono 20 anni che non ho più le spunte blu e non capisco perché la gente le abbia ancora quindi prima cosa togliere le spunte blu seconda cosa visualizza, quindi prima di togliere le spunte blu in questo caso visualizza e non rispondere per 24 ore poi togliere le spunte blu ok? e poi tu mi direi, ma perché non devo rispondere per 24 ore? perché questo crea ossessione, crea, aspetta tanto, nessuno di voi 99% di quelli che guardano questo video non ce la fanno a non rispondere per 24 ore quindi non rispondere per 24 ore, ok? perché tanto non l'avete mai fatto non ce la fate allora ti dico io che lo puoi fare, ce la devi fare devi creare un po' di tempesta una volta che hai fatto questo poi che cosa fai? mentre non rispondi, quindi visualizza e non rispondi per 24 ore cambi pure la foto profilo la foto profilo dovrebbe essere una foto profilo dove tu sei tra virgolette per esempio con le gambe accavalate con un cocktail davanti o comunque sei in una posizione dove si può vedere o intravedere un uomo al tavolo magari si vede solo il braccio o comunque dovrebbe essere una foto che ti hanno scattato cioè niente cose troppo diciamo da poco fortunati da gente poco fortunata per non dire che poi mi bannano qualsiasi parola dico quindi insomma foto che si capisca che tu stai passando un buon momento e che si vede magari un antagonista se non riesci a fare questo fai almeno una foto fatti una foto quando esci con le amiche e ti prepari questa foto dove si vede che tu hai le gambe accavallate con un cocktail davanti sul tavolo con un drink davanti sul tavolo e poi la metti come foto profilo questo genera sensazione di perdita tra virgolette di occasioni genera sensazione di possibilità di antagonisti e quindi aumenta la possibilità che lui si ingelosisca eccetera quindi inizia a controllare whatsapp in modo ossessivo compulsivo alla fine aggiorna pure gli stati di whatsapp con giusto due foto o con la stessa foto tutto questo mentre lo rispondi in 24 ore magari la foto te la sei fatta 20 anni fa adesso la riusi va bene uguale non è un problema e la usi per esempio in un venerdì o in un giovedì sera dove la persona non sa il fine fatto eccetera ora tornerai con la persona quindi poi gli risponderai gli dirai scusa sono stata molto impegnata lui si arrabbierà quando si arrabbia non sottostare a giustificazioni non giustificarti con la persona dicendo mi dispiace ti sei arrabbiato no queste cose da proprio da pessima persona pessima non farle quindi non dirle non chiedere alla persona scusa di semplicemente vittimizzati e digli mi fa passare molto male quando fai così perché in realtà io non faccio nulla apposta quindi utilizza la vittimizzazione che è un'altra forma di manipolazione spiccia che però funziona sempre la gente lo fa nemmeno se ne rende conto tutti lo fanno tutti l'hanno fatto con te anche i tuoi genitori che sono la causa principale poi di queste disfunzioni in realtà sicuramente hanno fatto con te le vittime ok? quindi si sono vittimizzati o comunque ti hanno manipolato e ti hanno poi indotto a atteggiamenti disfunzionali i tuoi genitori ti garantisco al 100% che erano sicuramente usando le tecniche di manipolazione nemmeno ne rendi conto molta gente vede questi video di dire ah mia madre faceva così si lo so I know because I was in that place perché pure io ci stavo ovviamente non esiste il manule perfetto dei genitori quindi scusiamoli perdoniamo ai genitori non andiamo a accusarli perdonali il padre perché non sanno quello che hanno fatto e quindi signori utilizzate questa tecnica come stavo dicendo quando ritornate a parlare dite semplicemente alla persona che ti dispiace che si stia comportando in quel modo che quindi adesso ti stia criticando eccetera e che non vedi l'ora di vederlo per passare del buon tempo insieme e basta poi utilizza la chat solo per organizzare un'uscita questo lo porterà tutto questo processo che hai fatto lo porterà ad aver creato un investimento emotivo forte nei tuoi confronti senza che se ne renda conto tra l'altro sarà fatto tutto nel virtuale quindi se vuoi davvero fare innamorare devi iniziare tutto dal virtuale ovvero dai messaggi ho creato i 59 messaggi per fare impazzire se hai ancora in tempo per prenderli per averli devi per forza quindi fare questo devi andare su Instagram scrivimi in privato il numero 59 e lì ti potrò mandare i 59 messaggi per fare impazzire così ti potrai utilizzare per creare dopo della suspense e fare innamorare in chat immediatamente valgono sia per uomini che per donne vai su Instagram scrivi in privato il numero 59 e ti mando i 59 messaggi per fare impazzire noi ci sentiamo dall'altra parte grazie a tutti